Buongiorno, mamma! Harley! Come mi hai trovata? Mamma, si gugio. È grazie a lui se riesco sempre a trovarti. Queste tue invenzioni non mi aiutano. Oh, andiamo! Chi ha lasciato la gelatina aperta? Ce l'ho nei capelli! Sì, lei è mia mamma, nascosta dentro la dispensa con il suo caffè. Quando hai sette figli e vuoi un po' di pace, è l'unico rimedio. Dammi due minuti per finire il mio caffè. Chiudi la porta prima che gli altri mi scoprano. Ti adoro, ti rispetto. Non posso farlo. Tutta la famiglia deve trovarsi al parco alle 11 per una cosa grandiosa. Dov'è la tazza da viaggio? Hai una tazza segugio? Ci penso io. Sono la figlia di Mezzo, il recipiente del riciclo. E ho sviluppato una certa inventiva. Non mi sto vantando. Essere creativi non è una scelta. È sopravvivenza. Ecco il tuo nuovo pollice da viaggio. Caffè e sapone. Non è così male. Grandioso. Ora non resta che mobilitare gli altri. Donate! Donate! Donuts! C'è un terremoto o è la mia famiglia? È la mia famiglia. I donuts! Dammi i donuts! I donuts buoni! Dove sono? Hai tanto donato! Se l'abbiamo sentito tutti così! Calmi! Non preoccupatevi. Tutti voi avrete i donuts. Oggi è al parco alle 11. Che cosa? Non si fa così, Harley! Non è giusto! Se non fossi stata della famiglia, ti avrei uccisa. Uccidimi al parco. Al parco alle 11? Vediamo il tabellone cosa dice. Scuola di cucina, Bistelliui. Partita di basket, Georgie. Rachel, mensa dei poveri. Ah, Harley, il tuo magnete non c'è qui. Di sicuro ieri c'era. Incredibile! Ero finita in terra e nessuno se ne è accorto. Ascolta, a meno che non trovi qualche donuts, non avrai la simpatia della folla. Mi dispiace, tesoro, ma non possiamo andare al parco. Ecco cosa capita quando ci sono sette figlie e sei quella di mezzo. Se fossimo una settimana, sarei mercoledì. E non l'inizio, quando tutti si sentono carichi di energia e di speranza. Come Rachel, Ethan e Georgie. Sì, agente, ha gridato donuts. Ma qui non ci sono donuts. Non potrebbe fingere di arrestarla. Pronto? E nemmeno la fine, quando si sentono felici e liberi. Non mi prenderete mai! Come lui, Beast e Daphne. Sono più felice di voi! Sono il giorno del tutto privo di sensazioni. L'apatico. Sono l'apatica Harley. I nomi non si cambiano. A malapena ricordo quelli che vi ho dato. Non sono stato io! Benvenuti nella famiglia Dias. Nascondete i cristalli. Nascondete tutto! Harley in mezzo a Disney Channel.